come un gruppo di onde radio magister armenia attraverso ettore cipollato a cura di roberto p domanda naturalmente fra un gruppo e l'altro ci può essere magister ma non immaginiamoli nemmeno divisi questi gruppi nel senso materiale della parola domanda però nel senso vibratorio magister immaginiamoli vibranti su frequenze diverse il che non li divide ma ed uso un altro termine che è sinonimo di dividere ma vi prego di intenderlo diversamente li separa funzionalmente è un po' come un gruppo di onde radio che stanno tutte nell'etere viaggiando nello stesso clima sono sintetizzate nell'ambiente in cui si esercitano ma si diversificano per la loro frequenza quindi la lunghezza d'onda è diversa ma in pratica stanno nello stesso ambito